Benedetta Parodi sui social dove condivide tanti video con le sue rubriche di ricette sembrerebbe aver qualcosa di diverso. Il suo profilo sembra essere cambiato di nuovo. Ha rifatto il naso un'altra volta? La cinquantenne a questo proposito non apre bocca. In passato invece si era sbottonata. Nel 2017 a gente aveva chiarito mi sono rifatta il naso ma mi sono pentita perché non è venuto come avrei desiderato, anzi l'hanno rovinato. Avevo problemi di polipi così ho pensato di unire l'intervento medico a quello estetico ma non lo rifarei. Forse però dopo tanti anni Benedetta potrebbe aver deciso di rimediare così da avere un volto più armonico. Il naso della Parodi infatti visto da tre quarti all'apparenza sembrerebbe essere diverso, più dritto e regolare. Benedetta sposata dall'11 luglio 99 con Fabio Caressa e mamma di Matilde, vent'anni Leonora 18 e Diego 13 potrebbe alla fine aver ceduta a una rinoplastica secondaria oppure potrebbe trattarsi di un semplice rinofiller meno invasivo seppur solo temporaneo. Grazie per la visione!